Un operaio di origine colombiana di 58 anni è volato dal tetto di un'azienda. L'uomo stava effettuando una manutenzione delle grondaie quando, per cause da accertare, è precipitato al suolo. L'infortunio è avvenuto a Carbonera in via Brigata Marche. Immediatamente gli altri dipendenti hanno allertato il suo M118. L'uomo, soccorso dai sanitari, è stato portato in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti gli uomini dello Spisal e i Cravinieri. Poco dopo, e a qualche chilometro di distanza, altro infortunio sul lavoro, questa volta nella frazione di Pezzana e nel parco di Villa Maria. Tutto è accaduto in un attimo. Un gruppo di volontari pensionati stavano potando alcuni alberi. Un 67enne ad un tratto si è spostato, un ramo si è staccato e lo ha colpito al braccio. Subito sono scattati i soccorsi. Il pensionato è stato portato in ospedale. Anche per lui le condizioni non sarebbero gravi. Sul posto anche la sindaca Federica Ortolanna. Mi dispiace sicuramente perché appunto è un gruppo di volontari che si mette a disposizione per il comune, ecco, in forza di una convenzione, per appunto curare questo parco che è un patrimonio per tutti. I volontari sono stati ascoltati dagli operatori dello Spisal che dovranno ricostruire l'accaduto. Un'operazione, quella che stavano effettuando, importante perché si tratta di alberi che a causa del maltempo dei giorni scorsi erano diventati pericolosi. Questi appunto pioppi sono stati oggetto anche di alcune cadute in occasione del maltempo, ecco, e quindi era proprio per questa ragione programmata l'abbattimento di alcuni esemplari che erano più in condizioni precarie. Giornata difficile per Carbonera che a distanza di qualche chilometro ha fatto i conti con uno dei fenomeni che da anni è sempre più preoccupante, quello della sicurezza sul lavoro. Sicuramente è una giornata difficile in tema di infortuni oggi e appunto auguro a tutti e due appunto le persone insomma che sono state ferite di riprendersi presto.